Guardia di Finanza e Polizia hanno eseguito questa mattina un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli, Direzione Distrettuale Antimafia, a carico di 28 persone gravemente indiziate di associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti e riciclaggio. Le indagini hanno consentito di ricostruire l'operatività di un sodalizio criminale con base operativa in provincia di Napoli facente capo al noto narcotrafficante Raffaele Imperiale, dedito all'introduzione sul territorio nazionale e all'esportazione verso altri paesi, tra cui l'Australia, di ingenti partite di cocaina. Imperiale ha fatto sì che lo stupefacente proveniente dal Sud America, nascosto all'interno di container, raggiungesse via mare i principali scali marittimi commerciali europei grazie ad accordi, alleanze e joint venture intrecciate a partire dal gennaio del 2017 con narcotrafficanti sudamericani ed europei di primissimo livello, sia colombiani delle famigerate formazioni paramilitari conosciute come clan del golfo, sia olandesi di origine marocchina che nel frattempo si affermavano sulla scena tra i principali gruppi criminali nel controllo del traffico di cocaina dal Sud America nei porti di Rotterdam e Anversa, sia irlandesi. Giunto sulla terraferma, lo stupefacente veniva prelevato e trasportato su gomma da autotrasportatori compiacenti per essere occultato all'interno di depositi, covi e nascondigli nella disponibilità delle organizzazioni ubicati in Campania, Calabria, Emilia Romagna e Lazio. Imperiale, già condannato in un precedente procedimento, instaurato presso la procura della Repubblica di Napoli mentre era in stato di lalitanza a Dubai, è stato capace nel corso degli anni successivi di assurgere ad un ruolo assolutamente primario quale broker internazionale della droga. Un vero e proprio player mondiale che aveva in Bruno Carbone, altro broker napoletano del narcotraffico, già condannato in via definitiva il suo principale luogotenente. L'Associazione per delinquere, oltre ad avere articolazioni in Europa, Africa e Sud America, poteva poi contare anche su una fitta rete di sodali attivi in varie regioni italiane. Nel complesso gli investigatori hanno ricostruito dal marzo 2020 al marzo 2021 movimentazioni di cocaina per oltre 7 tonnellate, di cui 1,3 sottoposte a sequestro in Italia e all'estero. Ai nostri microfoni Alfredo Fabrucini, capo della squadra mobile di Napoli e Danilo Toma, comandante del GICO della Guardia di Finanza di Napoli. Il cartello che abbiamo oggi sconfitto è sicuramente un cartello tra i più importanti operativi a livello non solo nazionale, anzi sicuramente a livello internazionale. Parliamo di un traffico gestito principalmente da Raffaele Imperiale come referente principale che aveva contatti che partivano dal Sud America, arrivavano in Europa, ma arrivavano anche in Africa. Quindi parliamo di un sistema complesso, un sistema che era in grado di movimentare svariati quantitativi di droga. Parliamo di tonnellate, solo in un anno parliamo di movimentazione per oltre 7 tonnellate e di rifornire anche gruppi criminali non solo napoletani. La droga sostanzialmente veniva celata e nascosta all'interno di container con dei carichi di copertura, poi dai grandi porti appunto veniva prelevata e nascosta all'interno di mezzi pesanti in doppi fondi appositamente creati e trasportata appunto in Italia dove subiva un primo stoccaggio in dei depositi ubicati in Lazio, Emilia Romagna e anche in campagna ovviamente in Calabria per poi essere poi distribuite ai vari acquirenti.